Ciao ragazzi, buongiorno! Oggi un'altra video ricetta. Oggi andremo a fare la parmigiana di zucchine, a modo mio ovviamente. Allora, ci occorreranno un chilo, un chilo e mezzo di zucchine. Io le ho messe così ad occhio, perché io ne dovrò fare sicuramente due o una per me e una con mia sorella di teglie. Poi la besciamella che andrò a fare con il bimbi, poi del parmigiano grattugiato e un po' di prezzemolo e basilico. O se volete voi potete sostituire il parmigiano grattugiato anche con della mozzarella da mettere all'interno della nostra parmigiana. Io lo faccio così. Allora, adesso andiamo a tagliare le melanzane e metterle nella teglia. Andiamo a tagliare le nostre zucchine. Scusate, mannaggia! Mi sbaglio con le melanzane perché, devo essere sincera, questa è la prima o la seconda che la faccio con le zucchine. Come sapete, mio babbo ha la terra, per chi è appena arrivato sul mio canale, quindi noi produce verdura e frutta per tutto l'anno e perciò ci arrangiamo a cucinare anche con quello che lui ci porta. Allora, quando abbiamo tagliato le zucchine, le andiamo a mettere nella teglia con lo che è della carta da forno. Ecco qua. Stesso procedimento con quell'altro. Come vedete, anche io non sono precisissima, quindi come vi vengano, vi vengano le fettine. L'importante è che non siano ovviamente troppo spesse perché devono cuocere in forno. Eccoci qua. Ora metto avanti se non vi annoio. Ecco qua cosa dovremo ottenere. Questi strati qui, intanto tagliamo sempre le zucchine. Come vedete, un primo strato nella teglia l'ho fatto. Adesso ci ho messo sopra un po' di pepe. Andrò a mettere un po' di sale che vada ovviamente su tutte le nostre zucchine. Eccoci qua. Andrò a mettere un filo di olio d'oliva. Ok, adesso continuiamo a sovrapporre le nostre zucchine, nell'altro senso, in questo modo. Ecco qua. Ecco qua. Vedete? In questo modo copriamo di nuovo tutta la teglia sopra e rimettiamo pepe, sale e olio. Nel frattempo, mentre affettate le altre zucchine, accendete il forno a 220 gradi e fatelo riscaldare per 10 minuti. Ecco qua. La nostra teglia di zucchine è pronta. Anche sopra ho fatto lo stesso procedimento. Adesso andiamo a fornare a forno ben caldo per 15-20 minuti. Ecco qua. A dopo. Biciamella. Allora, 40 grammi di burro. Ecco qua. 500 grammi di latte. Eccoci. Ecco qua. Allora, adesso prepariamo le bolline imburrate. Mettiamo lo strato di zucchine. Allora, prego. Allora. Ok. Eccoci qua, il nostro giudice. Poi ci mettiamo la besciamella sopra. Del formaggio da posate. Dei capperini. E' fermo tu. Un po' di prezzemolo a pezzettoni un po' più grossi. E poi ricontinuiamo con le zucchine. Allora, procediamo così fino a finire tutti i nostri ingredienti. Ok, quindi un nuovo besciamella. Ok. Parmigiano. Un po' di basilico, di prezzemolo e capperini. Finiamo l'ultimo strato. Ok. 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 Grazie. Poi spalziamo il parmigiano. Pronti, mettiamo gli ultimi tappellini rimasti e questa volta delle foglie di basilico pronti. Lavate ovviamente e asciugate. Faccio vedere la teglia pronta. Eccola qua. Adesso inforniamo a 200 gradi per 20 minuti. La teglia pronta. 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 La teglia pronta.